...pervenuti e lo spazio anche per far crescere i propri figli. E proprio Restanza è il termine scelto da Francesco Todisco, candidato del Partito Democratico al Parlamento Europeo, per la circoscrizione meridionale. Nello spazio d'arte Petri Caisernia sono intervenuti tra gli altri l'ex presidente della provincia Lorenzo Coia e il consigliere comunale del PD Alessia Panico. Io mi sono sempre occupato di aree interne e per me è fondamentale ribartare il cliché sulle aree interne perché spesso e volentieri sono osservate con l'occhio di chi abita nelle grandi realtà urbane, nelle città metropolitane. E qui indivige la logica dei borghi, della cartolina incantata, dei bei luoghi dove passare un bel fine settimana. Invece noi dobbiamo guardare le aree interne con l'occhio di chi vive qui. E io sono convinto, per tutte le esperienze che ho avuto in questo settore, che sia necessaria una legislazione speciale per le aree interne, all'interno di una cornice complessiva. Perché se non si fa così, se vigono le regole che vigono per le realtà urbane, ad esempio per il dimensionamento scolastico, piuttosto che per la medicina territoriale, piuttosto che per tutti i servizi che restituiscono dignità alla cittadinanza, i nostri comuni, i nostri paesi non ce la faranno a resistere. Quindi è necessario ribaltare completamente la visione e concentrarci su politiche specifiche che consentano di preservare le nostre città e le nostre comunità.